Penso che tutte quelle norme che hanno ridotto le spese delle amministrazioni locali siano state delle stupidate assolutamente senza senso, della demagogia a fine a se stessa. Fare il sindaco è difficile, è complicato, comporta impegno, presenza e quindi ridurre il numero dei consiglieri, ridurre il numero degli assessori, ridurre le indennità sono demagogia che non comporta nessun beneficio per la finanza pubblica ma che disincentiva chi magari avrebbe voglia di potersi dedicare a questa meritoria attività.